Al porto turistico Marina di Pescara Alvia da oggi la due giorni di Terra, seconda edizione, un Green Forum sulla transizione energetica, ci colleghiamo in diretta con Paolo Durante. Buon pomeriggio Paolo, ti vedo in compagnia di un ospite, dunque su quali focus si confronteranno gli esperti? Grazie Gigliola, buon pomeriggio a tutti voi da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli e poi naturalmente anche da parte dell'ospite che sto per presentarvi. Il futuro del pianeta e anche le grandi sfide verdi che il pianeta ha davanti, in una sola parola terra, termine declinato al futuro perché questo termine segna una direzione ben precisa che è quella della sostenibilità, della tutela dell'ambiente e anche della transizione energetica. Come hai detto tu, una due giorni, oggi è il primo giorno, quello che inaugura questa manifestazione che si concluderà domani. Vi partecipano esperti, accademici, esponenti delle istituzioni e imprenditori. Vicino a me, lo saluto e lo ringrazio perché adesso siamo in pausa, in pausa pranzo, c'è Paolo Arrigoni che l'anno scorso era qui a Pescara, la prima edizione, nelle vesti di senatore. Oggi invece ricopre un altro ruolo, quello di presidente di GSE, che è appunto un acronimo che significa gestione servizi energetici. Gestione dei servizi energetici. Che cos'è il GSE? È una società direttamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che agisce su indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Svolge un ruolo centrale nella transizione ecologica e questo è il motivo per il quale sono qui. Sono qui al secondo Green Forum della transizione energetica e siamo il garante e il promotore dello sviluppo sostenibile nel nostro paese. Come esercitiamo questo ruolo? Attraverso la gestione dei meccanismi di incentivazione per realizzare impianti e fonti rinnovabili. Stiamo parlando di fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermia. Meccanismi di incentivazione per gli interventi di efficientamento energetico sia in campo industriale ma soprattutto nel settore delizio. E poi meccanismi di incentivazione per la mobilità sostenibile. E' un dato, negli ultimi dieci anni GSE è erogato al paese 140 miliardi. Stiamo parlando di questi numeri assolutamente importanti. Svolgiamo questo ruolo e poi anche il supporto alle imprese, alle pubbliche amministrazioni centrali e locali per consentire di sviluppare a loro la propria politica energetica. GSE e l'Abruzzo cosa bolla in pentola, Rigoni? Ma diciamo che oggi sicuramente è un'altra tappa che dovrebbe portare a breve, nei prossimi mesi, magari un accordo di collaborazione tra la nostra società e Regione Abruzzo per molteplici scopi, anche la formazione del personale e della pubblica amministrazione regionale e anche locale e per far conoscere i meccanismi di incentivazione che sono gestiti dal punto del GSE. Fare sinergia perché la transizione ecologica, transizione energetica, che è un percorso che durerà anni, ricordiamo l'obiettivo finale è quello di decarbonizzare, limitare l'aumento del temperatura del pianeta, presuppone comunque un'azione corale da parte di tutti i soggetti. autorità centrali come il Governo, Parlamento, il GSE, autorità regionali, comuni, ma anche le imprese e i singoli cittadini. È una rivoluzione culturale dove tutti, anche con il minimo contributo, possono essere determinanti per perseguire questi obiettivi che sono sempre più sfidanti, ma è un impegno che ci dobbiamo assumere soprattutto a tutela del nostro pianeta e delle future generazioni. Grazie di cuore al Presidente GSE Paolo Origoni. Allora noi ci salutiamo, però adesso ti lancio Gigliola l'intervista che abbiamo realizzata poco fa con l'assessore Nicola Campitelli. A questo punto da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli è davvero tutto dal porto turistico di Pescara con Terrà. A voi. Assessore Campitelli, qui si parla del futuro del pianeta, di Green Deal, di questo patto verde. In Abruzzo a che punto siamo? Sulla Buona Strada o ci sono dei ritardi? Noi siamo assolutamente sulla Buona Strada, tant'è che come governo regionale abbiamo proprio l'obiettivo di raggiungere la transizione ecologica. Stiamo cercando di proiettare la nostra regione verso il futuro, anche attraverso queste iniziative che sono momenti di cultura, di formazione, ma anche un evento orientato alla soluzione dei problemi. Noi siamo una regione che ha una capacità rinnovabile al di sopra della media nazionale, del 27%, 3 gigawatt di produzione da fonte rinnovabili. È chiaro che non ci vogliamo accontentare. Noi vogliamo puntare ad aumentare la nostra capacità rinnovabile, ma vogliamo altresì che questa transizione ecologica non rappresenti un problema per i cittadini abruzzesi, ma bensì un'opportunità. Che significa? Significa tutelare la nostra terra, ma allo stesso tempo sapendo che abbiamo la necessità di aumentare la produttività, creare posti lavoro, lo sviluppo. Quindi vogliamo aumentare anche la competitività del tessuto produttivo delle aziende che oggi in Abruzzo pagano in Italia, pagano comunque un costo energetico superiore a quelle delle altre regioni d'Italia. Quindi un obiettivo qual è? L'autosufficienza energetica. Noi come Regione Abruzzo vogliamo dare quel giusto contributo al sistema paese affinché possiamo essere non più dipendenti da altri dal punto di vista energetico. Insomma, mi pare di capire che la transizione energetica è una via obbligata. È una via obbligata che bisogna affrontare con la massima razionalità. Bisogna mettere a parte l'ideologia perché l'ideologia non fa altro che allontanare la soluzione dei problemi, ragionare con estrema razionalità per affrontare i problemi in modo concreti e in modo seri affinché possiamo dare un futuro migliore ai nostri figli.